Musica Ciao a tutti raga sono Davide Buti in questo nuovo video Siamo ritornati nella nostra carriera naturalmente corsa a suolo Mancano pochissime partite raga Oggi abbiamo due match fondamentali per la corsa ai primi posti della classifica Giochiamo in casa della Fiorentina a uno scontro diretto raga E poi si va contro la Samp del buon vecchio Walter Zenga Vabbè comunque oggi abbiamo due partite molto fondamentali per il nostro campionato La prima sta per iniziare adesso Come sempre incrociamo le dita come sempre Forza a suolo dai raga No gli ha dato rigore Ma no ma no Giuseppe Rossi al dischetto Minuto 18 mannaggia Dai No mi stavo fermando mi stavo fermando 1 a 0 porca miseria Subito vantaggio viola Al minuto 18 Dai raga Bravo Berardi si gira bene Scarica per Cristante L'appoggio era di Duncan Per Sansone Il cross a centro No Bracikoski Mannaggia Jacovenko sulla sinistra Occhio Siamo al minuto 38 Ancora Jacovenko si ferma bene Giuseppe Rossi Bravo consiglione La punizione di Giuseppe Rossi non tirerà Spero Oddio Si conclude così per lo tempo raga Purtroppo siamo andati sotto per quel rigore di Giuseppe Rossi Che si è guadagnato Babacar riprende ora al secondo tempo Dai raga mi raccomando almeno un pareggino Ripartiamo Dai Defrel Dai Defrel portala tu Portala tu E serve Berardi adesso bellissima Dai zio ti prego metti il turbo Attenzione Berardi Berardi Il gol della merda Rivier Tata Rosano Con Rivier Andiamo Subito il pareggio Dai che c'è tempo raga Siamo al cinquantesimo Dai cacchio Che azione di Berardi Al centro per Defrel 1-1 Bravi raga Così si gioca Così si gioca a calcio Defrel adesso Cristante subito Per Sansone Vizione Sansone Attenzione Rivier No Defrel La palla è buona Cacchio La difende Ancora lui adesso Scarica Sul nostro domenico Ora Duncan Vede Defrel tra le linee Ancora Defrel Attenzione In trenare Defrel In croce 2-1 Rivolta completata Al minuto 70 Mamma mia che palla dentro Quella di Duncan Per Defrel Che dribbla story E deposita in rete 1-2-1 Straordinario Dai raga Bravo Cristante Recuperare questa palla Ripartiamo ora col contropiede Duncan vede il movimento Di Sansone In velocità Così possiamo chiamare Questa Azione Di Sansone Ora è buona Cristante Entrenare Cristante Il cross basso Tadano Sano sbaglia No Cosa ha visto Fuori gioco Mannaggia Fischia Fischia Finita È finita 2-1 Che partita Cardiopalma 2-1 Firenze Mamma mia raga Qua abbiamo fatto Un colpaccio In quel di Firenze Corriamo immediatamente A vedere la classifica Perché Questi qua sono Tre punti fondamentali In vista del prossimo match Che sarà Infrasettimanale Sarà proprio contro la Samp Oddio raga Siamo terzi Siamo terzi A pari punti con la Lazio E a pari punti con l'Inter Che però ha una partita in meno Che giocherà contro Chi è che ha 32? Ah il Napoli Vabbè quindi Siamo in posizione Ok raga Ottima prestazione dei nostri Ora si va a giocare Contro la Samp Turno in franzettimanale Come vedete Si gioca di mercoledì E si gioca in casa Quindi Alma Pay Stadium Tutto pronto Tutto carico Per questo Match I giocatori sono un po' stanchini Facciamo qualche sostituzione Come abbiamo fatto prima Con Balul e Gnocuri Nel secondo tempo Dai raga De Silvestri In aria Mamma Soriano Cosa si è mangiato Meno male Meno male Sansone Diamo gli una mano Porca puttana Che è sempre in difficoltà Quest'uomo 1-2 Duncan adesso Mamma mia Cazione dei nostri Tutto di prima Con De Frel Che vede Riviera Attenzione Vasco Reggini Bastardo Cazzo È una bella azione Duncan Si appoggia Su Cristante Vede Riviera Vivianone Cazzo Però sul secondo Era meglio Occhio in laccio È buono Rodriguez Attenzione Rodriguez Engels Ma dove vuoi andare Troppo forte Ho fatto un acquisto Lì Occhio a Rodriguez Porca puttana Che traversa Cora Via Via Perché l'ultima volta Così abbiamo fatto Con la Juve Poi due traverse Pam Zazza Gol Mamma mia Mamma mia Che critico Al fine Primo tempo Due traverse Dobbiamo cambiare Raga Questi sono stanchi Morti Le frellesce Per Baluli Poi Raga Apolitano Entra Il posto di Sansone Dà un po' Tu di vitalità E poi tolgo Anche Duncan No Sbagliato E poi tolgo Anche Duncan Perché Raga Sansone Non lo capisco Io Mi ha davvero Deluso Cioè Non mi ha fatto Un gol In 40 partiti Del campionato Tra coppe Il pelataccio Di De Silvestri Occhio al pelataccio Di De Silvestri Sulla destra No No Via 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 Colasinac Mette giù Serve Politano Politano Adesso Per Colasinac La busta Attenzione Riviera Adesso Baluli è da solo Vede l'inserimento Adesso Di Brian Cristante Che esplode Il destro Corner Dai Dai Adesso Dobbiamo piazzare Di terza Qua Di testa Dai Dai Verardi Al centro Dai al centro Per qualcuno Eccolo No Vivianone Esce Cristante Ora da fuori aria Cazzarola Che tiraccio L'appoggio è per Politano Politano Riviera adesso Per Baluli Ottima l'azione Di Baluli Cazzo Aveva dribbato Il primo uomo Ancora Baluli No Riviera Questa volta Hanno entrambi le scarpe Arancioni Si capisce un cazzo Politano Beh è l'azione Per gli ucuri Ho messo giù Purzione Purzione Dai Dai che buona Questa Verardi ti prego Facci saltare di gioia Attenzione Domenico La punizione Uuuuuh Colasinac Riceve Alle vizie dell'aria Esplode Sinistro Tizioni Passa una pipa Prendiamo Ah no è angolo Bravo 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 Cristante La palla al centro Scodellata Ancora Viviano Mannaggia a lui Quanto cazzo esce Baluli Adesso Si appoggia Versalico Chiamano due Ancora con Verardi Ancora Verardi Ottima per Versalico Mamma mia Che coppia sono Sti due Che coppia sono Oddio che palla Verardi Riviere Una girata Che torna di Verardi Ha venuto 87 Che azione Mamma mia Che gol ha fatto Riviere Ma che gol ha fatto Riviere Ma che azione Di Versalico Di Verardi La coppia Qui fortunato Un po' Nel ripallo Ma la girata Degna del Miglior zile Di Zidane Vabbè Noi esageriamo Per 1 a 0 Dai Dai E' finita 1 a 0 Andiamo a vincere Anche questa Tre punti Cacca Guardate qua 5 tiri a 1 Non c'è storia Non c'è storia Siamo fottissimi Giochiamo da dio Giochiamo Mamma mia Che formazione Che squadra Che squadra Riviere Che gol ha fatto Che gol ha fatto Ci lasciamo così Anche oggi ragazzi La prossima partita Con il Torino Mancano Io sono a 34 partite Per il momento Sono seconda in classifica Però Adesso avanziamo Così vediamo la classifica Generale Intanto abbiamo anche La prossima partita Col Toro L'avete vista Eccola qui La nostra classifica Siamo Per il momento No Non si è giornata per niente Siamo per il momento Secondi a quota 68 Questo episodio termina qui Ragazzi Tanti mi piace Per il gol straordinario Di questo episodio Per la remuntata con la Trentina Per l'Euro goal di Riviera Assolutamente Tanti mi piace Tanti commenti qua sotto Con i vostri consigli Ci vediamo nel prossimo video Sempre forse Sassuolo Manca pochissimo Al termine della prima stagione E poi inizierà Naturalmente il calcio mancato Io vi saluto Bella raga Which Day Mom Beans Squillic Ciao